Questo è il video con cui inauguro il canale 3 minuti di disegno e pittura. Benvenuto! Rose dipinte in musica. Dipingerò su uno spartito musicale, su cui ho riportato un disegno presente nell'album numero 9. 108 disegni facili. Inizio dalle parti chiare, una miscela di bianco e giallo primario. È preferibile così, in modo da avere la possibilità di controllare le zone che vogliamo lasciare in luce. Quando si lavora con l'acrilico, in special modo sulla carta, è bene ricordarsi che i colori sono poco coprenti, quindi bisogna evitare di mettere prima i rossi e poi non avere lo spazio per la luce. Ora guardate, sto facendo la parte più scura di questa rosa, le zone che rimangono sotto i petali piegati. Questo contorno così scuro andrà poi sfumato nella parte chiara messa in precedenza. E guardate l'effetto che fa di rotondità. In primo piano abbiamo la parte più luminosa e in luce grazie alla presenza del bianco. Nella parte più scura abbiamo la sensazione di affossamento. Cercate di sfumare molto bene per agevolare la fusione. Nella parte esterna o di confine con gli altri petali ci sarà la zona scura. Nella parte centrale avremo l'effetto rotondità perché andremo a mettere del bianco e del giallo che poi sfumeremo in questo rosso masone. Le pieghe saranno le parti più chiari in assoluto. Su questo canale potrete trovare video che hanno una durata massima di 3 minuti e 59. Se siete interessati ad approfondire l'apprendimento di queste tecniche sappiate che potete trovare alcuni di questi lavori riprodotti anche in video più lunghi sul mio primo canale. Mi lascio il link in descrizione quando sono disponibili. Se siete interessati ad avere i disegni sappiate che sono pubblicati su alcuni album. Trovate il link in descrizione. Io realizzo il bocciolo con il colore giallo, marrone, blu e anche il bianco per le zone in luce. Questi colori mischiati insieme danno molti toni di verde e mi permettono di fare le zone più chiare e le zone più scure. Fate molta attenzione nel dipingere i sepali, fate che siano molto eleganti e raffinati. Questa rosa è proprio così, quindi anche il fogliame, gli steli e i sepali devono essere altrettanto. Attenzione perché i sepali sono un verde scuro all'esterno e un grigio verde all'interno. Quando si dipingono le foglie bisogna stare attenti alle zone che stanno sotto e sono più scure rispetto a quelle sopra che prendono più luce. Ricordarsi anche che le pieghe delle foglie non hanno mai lo stesso colore della foglia a cui appartengono perché sono in una posizione diversa e quindi vengono colpite diversamente dalla luce. Le mie grandi passioni, la pittura, la musica, le rose, tre concentrate nello stesso lavoro. Tutti i lavori che vedrete su questo canale sono derivanti da idee e disegni di cui sono l'autore esclusivo. I brani musicali che ascolterete sono di mia composizione e ne posseggo i diritti. Ti ringrazio per aver visto il mio video. Ti ricordo di mettermi un like e di condividere se ti è piaciuto. Ti do appuntamento alla prossima video-lezione. Ti do appuntamento alla prossima video-lezione.